L'attenzione per il momento è rivolta alla campagna elettorale. La gente però si chiede questo Consiglio Comunale sta dando il massimo, c'è una certa effervescenza, può dare di più? Che cosa ha fatto, ha compiuto di importante in questo primo anno di attività? Essere in campagna elettorale questo non significa non dare risposte alla cittadinanza, anche perché noi siamo un'espressione democratica di persone che hanno votato la nostra presenza in Consiglio Comunale, quindi il nostro impegno è continuo e costante sotto tutti i punti di vista. Ovviamente essendo opposizione ed essendo minoranza siamo molto limitati nel poter dare le risposte, però noi ci facciamo portavoce della cittadinanza e quindi chiediamo quotidianamente all'amministrazione di dare quelle risposte che ci arrivano dai cittadini. Ebbene, queste risposte tardano ad arrivare e l'amministrazione si sta nascondendo spesso e volentieri dietro le difficoltà economiche, dietro il fatto che abbiamo dovuto in nemmeno un anno dovuto esaminare diversi documenti economici e programmatici. Non ultimo, il 7 novembre dovremo andare in aula per discutere ed eventualmente approvare il previsionale 2017-2019 a cui l'amministrazione ha agganciato tutte quelle risposte che sono previste nel loro programma elettorale e che al momento non vediamo attuato. Non vediamo nemmeno un minimo di programmazione futura, perché ripeto l'amministrazione demanda tutto al previsionale 2017, nonostante sia presente sotto gli occhi di tutti che la città in questo momento sotto ogni punto di vista è ferma. C'è campagna elettorale, però l'attenzione verso le problematiche della città si augurano i cittadini non venga abbassato, non venga dissolta. Cerchiamo di far capire alla gente che cosa sta facendo in questa fase il Consiglio Comunale, quando tutta l'attenzione, gioco forza, è su questa campagna elettorale. Sì, è indubbio che ovviamente in questo momento i riflettori sono sulla prossimissima, tra l'altro, elezione regionale. Il Consiglio Comunale ovviamente non può fermarsi o fare pause, perché per questa ragione sta continuando l'azione. Adesso avremo a breve il bilancio di previsione 2017-2019 che andrà in Consiglio e quindi le commissioni stanno continuando a lavorare, si stanno continuando ad insediare. Sta lavorando anche la prima commissione consigliare che sta mettendo mano sia al regolamento del Consiglio Comunale sia allo Statuto Comunale che deve essere aggiornato in alcune delle sue parti. Quindi l'azione consigliare continua in perterrita, perché la città deve andare avanti e non si può sicuramente fermare l'azione. Ci sarà sicuramente un cambio di marcia, un cambio di velocità subito dopo il risultato elettorale, nel senso che l'attenzione poi sarà massima sulle questioni del territorio. Certo, è ovvio che chiunque sarà eletto, chiunque saranno i rappresentanti regionali, saranno più che mai sollecitati dai vari comuni, dalle varie amministrazioni, perché i problemi del territorio sono tanti. Le risposte che si aspettano soprattutto dalla regione Sicilia sono innumerevoli. Quindi sia il Comune di Sicili, ma come credo tutti i comuni, aspettano di avere dei referenti certi in provincia a cui affidarsi per risolvere le varie problematiche.